E che è? Ma che stai a fare? Inglese. Eh, canto in inglese per presentare Deep Purple. E va bene, ma tutta questa messa in scena? E basta una parola, no? Allora, ecco a voi... come? Deep Purple. Dillo di va. Ecco a voi i Deep Purple. Oh. Allora, ecco a voi. C'è la prima volta. Allora, ecco a voi. E' parecchio a voi. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti